La Giuseppe De Maria Production ti dà il benvenuto nel suo canale YouTube dedicato ai mezzi storici, e ti propone un video contenente una bella galleria di foto, aventi come soggetto un magnifico esemplare di Moto Guzzi V1000 G5, immatricolata nel corso dell'anno 1985. Nello specifico, la moto designata come Moto Guzzi V1000 G5, dove la sigla G5 era costituita dalla lettera iniziale della parola gear, ossia cambio in lingua inglese, mentre il numero 5 era riferito alle marce di cui il cambio che la equipaggiava disponeva, è stata una possente riuscita moto che venne prodotta dalla celebre casa motociclistica italiana Moto Guzzi, per circa 7 anni, a partire dall'anno 1979, e sino all'anno 1985. Evoluzione in chiave più tradizionale del precedente particolare modello, equipaggiato con una trasmissione automatica, designato come Moto Guzzi V1000 Hydroconvert, e prodotto dall'anno 1975 all'anno 1984, la Moto Guzzi V1000 G5 si distingueva appunto dallo stesso principalmente per l'adozione di un normale cambio a 5 rapporti, ma nonostante le sue indubbie qualità, ottenne un modesto riscontro commerciale, tanto che soltanto l'assegnazione di parecchi esemplari alle forze di polizia consenti il raggiungimento di traguardi produttivi accettabili. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!